Tutto a bordo signore Dovrebbe chiedersi prima chi è Ho perso la memoria E cosa ci fa in Sudafrica? La roccia è veramente speciale 40.000 joule sta aumentando Ma deve subito combattere Mi ha incastrato Metti in modo Come faccio? Jackie Chan Io che sono? Senza nome e senza regole Domenica alle 21 Sul 20